Questo video parla di Johan Straussi, spiego le cose più importanti della sua vita e delle sue opere. Johan Straussi nacque a Vienna nel 1804. Cresce in una famiglia di locandieri, ma la musica lo attrae fin da piccolo. Strauss iniziò la sua carriera come violinista in piccole orchestre da ballo. Ben presto fondò una propria orchestra e iniziò a comporre waltzer e altre danze. Divenne noto come il «Re del waltzer» e rese popolare il waltzer viennese in tutta Europa. Uno dei suoi pezzi più famosi è la «Marcia di Radetzky». Johan Straussi è il padre di Johan Strauss II, anche egli famoso compositore di waltzer. La famiglia Strauss ha avuto un'influenza significativa sulla musica da ballo del XIX secolo. Strauss ha avuto un'influenza significativa sulla musica da ballo del XIX secolo. Johan Strauss è starb 1849 e è me' alter von 45 jaren. Obwohl er fru starb, interliessere in un fangreich repertoar, das bisseute jazzpiltwoord. Seine music segnet sic der Ciengen-Gigge melodin und tanzbarer idemen aus. Er war ein maister der unterhaltungsmusik und hatte ein jazz pur fer dai vorlieben des publicums. Strauss trug mas geblich zur popularitat des waltzers bei, der zum symbol der Osterreichischen Kultur wurde. Seine music wurde oft bei festlichen anlassen jazzpilt. Johan Strauss II ist eine wicisfigur in der jazzkichte der Tanzmusik. Seine influss IST nicht nur in der Klassik, sondern noch in der unterhaltungsmusik zu spuren. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.